3 milioni e mezzo di prestiti nelle 500 biblioteche pubbliche del Piemonte, di cui 930.000 solo a Torino e 700.000 nell'area metropolitana, 4 milioni di visitatori l'anno e 2.500 addetti. Sono questi i numeri del sistema regionale presentati nella prima giornata delle biblioteche del Piemonte. A fronte di questi dati la spesa per il settore, comprese archivi e istituti culturali, nel 2008 rappresentava solo il 14% del totale della spesa destinata alla cultura, contro un 34% riservato ai musei e un altro 34% allo spettacolo. Questa percentuale nel 2010 è scesa di altri due punti, portando il settore a decidere di riunirsi per fare il punto della situazione. Anche tenendo conto della crisi, delle risorse pubbliche disponibili, che apre però delle opportunità di rilancio proprio delle politiche al fine di costituire un sistema regionale funzionante ed efficiente. La rete piemontese è ricca, complessa e vivace. La crisi generale che il paese sta attraversando può essere occasione per reagire con idee nuove che rivitalizzino il sistema. Per esempio si parla di aumentare la rete di biblioteche per farle dialogare tra di loro, si pensa ad un catalogo unico, dei volumi disponibili e a una tessera elettronica per gli utenti. Il modello a cui fa riferimento è quello delle Idea Store londinesi oppure della biblioteca Sala Borsa di Bologna, dove le persone si incontrano, parlano, bevono un caffè e poi magari leggono anche un libro. I torinesi sono abbastanza soddisfatti dell'attuale offerta. Il sistema piemontese è infatti uno dei più organizzati e strutturati del paese. Vorrebbero però aree più flessibili, maggiore apertura agli stranieri e strutture più moderne. Delle persone in grado di spiegare a chi non parla bene l'italiano queste cose qua. Perché vedo qua gente che arriva, cerca una cosa però non riesce a farci capire. E poi non c'è un servizio che si occupa di queste cose. Tutto lì. Per turismo sono stata a Marsiglia, è un esempio, una biblioteca nel cuore della città, dove hanno riammodernato una struttura storica, frequentatissima. La biblioteca dei tuoi sogni come potrebbe essere? Oddio, è una biblioteca che studiasse per me, ma non esiste.